Un cordiale buongiorno e benvenuto a questa diretta del nostro telegiornale. Iniziamo parlando di cronaca, anzi di un gravissimo fatto di cronaca. Infatti un incidente mortale nella serata di ieri a Pavignano ha fatto perdere la vita a Rocco Paglialunga, 44 anni, che a bordo della sua moto si è scontrato violentemente con un'auto. Intanto gli abitanti della strada denunciano. Questa non deve essere più una strada di morte, si faccia qualcosa. Il nostro inviato è Lorenzo Tivelli. Tragico incidente mortale ieri sera in via Ogliaro a Pavignano. Erano quasi le 19.30 quando la motocicletta di Rocco Paglialunga, proveniente da Andorno, si scontra con una monovolume che sta girando in via Filature di Tollegno. L'urto è violentissimo, più di 20 metri di frenata fanno immaginare la velocità della moto che riesce a spostare la Renault Espace, un'auto che pesa più di una tonnellata e mezza, fino a mandarla contro il muro dell'abitazione a lato della strada. Il motociclista muore sul colpo, il conducente della monovolume, un impresario dire sempre della zona, rimane illeso, anche se ricoverato in ospedale sotto stato di shock. La moglie si salva per le strane coincidenze del destino. Infatti era stata scaricata poco prima dal marito nella farmacia all'inizio della strada per prendere alcune medicine, arrivata sul luogo dell'incidente e svenuta. Paglialunga, 44 anni, originario di Seriate, ma residente a Biella, lascia la moglie e due figlie, Clarissa e Martina. Ora le precise dinamiche dell'incidente sono al vaglio degli investigatori che hanno acquisito tutti gli elementi sul luogo dell'incidente. Per consentire lo sgombero della carreggiata, via Ogliaro, la strada principale che collega Biella alla Valle Cervo, è rimasta chiusa per un paio d'ore. La gravità di questo episodio ha scatenato per l'ennesima volta l'indignazione degli abitanti della zona, che da tempo lamentano la pericolosità di quel lato di strada dove i limiti non vengono mai rispettati e dove i dossi non bastano moderare la velocità. Oggi sul posto rimangono mazzi di fiori, la rabbia e le lacrime per una vita finita troppo presto. E purtroppo un altro grave incidente nel biellese. Questa mattina, infatti, a Cavaglià vi è stato un ferito grave, trasportato in ospedale con un trauma cranico e uno toracico. Il luogo dell'incidente è stata la frazione Brianca nel comune di Cavaglià, il servizio. Grave incidente questa mattina alle 7.15 a Cavaglià, in località Brianco, dove vi è stato uno scontro frontale tra due auto. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 118, con due ambulanze. Uno dei due uomini, che era alla guida di una delle due auto coinvolte, è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni, con un trauma cranico ed uno toracico. Per le indagini di routine, vista la gravità della situazione, è intervenuta anche la polizia stradale di Biella, guidata dal comandante Maria De Laide Tedesco, per capire le dinamiche dell'incidente ed effettuare tutte le analisi necessarie sul posto. Ancora sconosciute le cause dell'incidente, tra le ipotesi, l'alta velocità, una distrazione o un colpo di sonno di uno dei due conducenti. E parliamo ora di trasporti. Questa mattina in Prefettura si è svolto un tavolo sui trasporti ferroviari. Il territorio biellese ha presentato alla Regione Piemonte e a RFI le proprie proposte. La difficile questione dei collegamenti ferroviari è stata oggetto di discussione del tavolo sui trasporti ferroviari biellesi che si è tenuto questa mattina in Prefettura Biella. Con efficace lavoro di squadra, spiega il Prefetto di Biella Demetrio Missineo, il biellese presenta oggi le proprie proposte articolate in vari gradi. Ora occorre che ciascuno, anche in ambito locale, faccia la propria parte, secondo le proprie competenze e secondo gli impegni assunti. Abbiamo cercato di riunire tutte le forze del territorio in qualche modo competenti sull'argomento. Abbiamo approntato un quadro completo per favorire i trasporti ferroviari da Biella a Milano e da Biella a Torino e ritorno. Le abbiamo suddivisi in tre fasce, le opere realizzabili nell'immediato, diciamo in breve tempo, quelle a medio termine e poi quelle finali, perché noi vorremmo alla fine avere una elettrificazione e la linea che ci porti in mezz'ora, 40 minuti, sia a Torino che a Milano. Soprattutto abbiamo lavorato anche sul discorso dell'utenza, perché è chiaro che non vogliamo creare delle catterrali nel deserto, delle linee ferroviarie che poi non sono frequentate e su questo poi ci sarà un appello a tutta la società biellese, agli imprenditori, perché facciano dei premi, degli sconti promozionali per coloro che vengono a comprare qui in casa, nella fabbrica delle stesse grandi imprese, a favore di un polo turistico che va organizzato, stimolare anche la possibilità di fare venire per un polo immobiliare, qui si abita con poco prezzo, si comprano case con poco prezzo, quindi creare poi un'attrazione soprattutto da Milano a Torino e poi con l'aereo, con charter anche da Roma per favorire l'afflusso da questi tre grandi centri verso Biella che può offrire molto, sia in campo tessile, sia in campo turistico, sia in campo immobiliare, sia in campo medico, eccetera, quindi fare in maniera che Biella sia un punto di destinazione molto frequentato per fare rinascere anche il territorio. E dove finiranno i rifiuti di in mezzo Piemonte? Mentre si incendia la polemica sull'ipotesi di riqualificazione dell'inceneritore di Vercelli, l'assessore provinciale di Biella, falso governato, assicura di non aver mai indirizzato verso questa soluzione. Non si placca la polemica che si è accesa sull'ipotetica realizzazione di un nuovo inceneritore a Vercelli. Vercelli dunque sarà la pattumiera del Piemonte? L'interrogativo è stato al centro di una conferenza stampa indetta dal Partito Democratico dopo che i comuni di Biella e Verbania hanno pubblicato sui rispettivi siti comunali la delibera di giunta che riguarda il protocollo d'intesa con le città quadrante. Documento che in realtà non riporta nessuna indicazione sulla costruzione dell'impianto. Si fa riferimento al protocollo d'intesa ma non è allegato il documento e così la questione diventa veramente un mistero. I consiglieri del PD dunque chiedono la convocazione consigliare per parlarne quanto prima. Insomma, non c'è chiarezza sotto molti aspetti. Anche se l'assessore provinciale Biella Fausto Governato aveva smentito a chiare lettere di avere mai asserito che dovrà essere Vercelli a vedere sorgere il nuovo inceneritore. Quella al massimo potrebbe essere un'ipotesi che emerge quando si pone il problema dei rifiuti. In fondo si parla di 160.000 tonnellati di rifiuti all'anno. Vero è ancora, emerge sempre nell'ambito della conferenza stampa indetta dal PD che la recente legge sul leato prevede che interventi strategici e fortemente impattanti dal punto di vista ambientale, quali gli inceneritori, siano funzioni concertati d'intesa con la Giunta regionale. Non a caso il gruppo SEL ha presentato un'interrogazione a risposta immediata per il Consiglio regionale per comprendere se siano a livello di dichiarazioni giornalistiche o in realtà ci sia veramente qualcosa di concreto in quello che sembra diventare veramente il mistero dei rifiuti. E parliamo ora di sanità. Entro fine giugno approderà in Giunta Biella il piano particolareggiato del polo oncologico che sorgerà a Biella. Se l'iter burocratico sarà rispettato, entro fine estate potrebbero partire i lavori. Entro fine mese in Giunta Biella dovrebbe approdare il piano particolareggiato del polo oncologico presentato dalla Fondazione Terra Biella lo scorso mese di marzo. L'approvazione da parte della Giunta Gentile dovrebbe giungere invece a settembre, dopodiché dovrebbero incominciare i lavori. Biella è stata scelta quale sito per la costruzione di questo centro di diagnostica e radioterapia pediatrica che, almeno in prospettiva, mira a diventare un importante riferimento non solo nazionale ma anche internazionale. Tre relatori presenti ai Città Studi vi erano importanti figure del mondo medico-scientifico, imprenditoriale e politico. Il progetto è sviluppato su cinque anni nei quali verrà costruito fisicamente il centro e si provvederà adottarlo a delle varie tecnologie. Tre anni per la produzione di radiosotopi, quattro per il fascio intestata fissa e cinque per il fascio intestata rotante. Insomma, un grande progetto e un nobile scopo, quale quello della cura dei tumori pediatrici, ma anche una possibilità di rilancio per Biella. E come emerso dalla nostra inchiesta effettuata ieri da Mattia Ferrero, i biellesi sono preoccupati per quanto riguarda il pagamento della prima rata sull'Imu. Troppa burocrazia e poca informazione. La nostra redazione ha intervistato un noto commercialista biellese per cercare di fare il punto della situazione. Quindi vediamo l'intervista a Marco Pichetto. Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento della rubrica Oltre la notizia. Questa volta parliamo di Imu. Se vicino infatti il primo appuntamento con l'Imu scade il 18 giugno, il termine per pagare l'acconto dell'imposta unica sugli immobili che interessa 17 milioni e mezzo di italiani. L'incasso stimato ammonta circa 10 miliardi di euro. Come annunciato dalle nostre inchieste nei giorni scorsi, il provvedimento comunque ha colto impreparati molti biellesi, soprattutto per quanto riguarda la logistica, cioè il come e il dove andare a pagare. Cerchiamo di fare un po' di ordine su questa situazione, su questo provvedimento con un noto commercialista di Biella, Marco Pichetto. Ecco, Pichetto spieghi ai nostri telespettatori com'è che ci si può muovere in questa selva burocratica. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'occasione e rispetto all'Imu, l'imposta municipale che è stata introdotta da quest'anno, la prima cosa da dire è che sostituisce a partire dal 2012 la vecchia ICI. Vecchia ICI che fino al 2011 era dovuta da tutti i possessori di immobili ad esclusione delle prime case. La novità e il peso anche di questa nuova imposta invece tocca di nuovo, come era per l'ICI fino a pochi anni fa, anche tutte le abitazioni principali, quindi la difficoltà e i problemi organizzativi di cui tutti possiamo immaginare è il dover riprendere coscienza da parte di tutti i proprietari, anche di tutti i proprietari di prima casa, di dover essere parte attiva, perché si tratta di un'imposta che si basa quindi su un ruolo attivo del cittadino che deve dichiarare e calcolare l'imposta dovuta da versare al comune e allo Stato, perché l'imposta viene poi suddivisa tra il proprio comune di residenza in cui è situato l'immobile e lo Stato, in particolare per le seconde case e per gli altri fabbricati. Quindi la principale difficoltà è appunto per tutti i proprietari di farsi parte attiva con i CAF, con gli studi commercialisti che stanno dando il loro supporto nel predisporre il calcolo dei versamenti. E l'intervista completa con Marco Pichetto andrà in onda alle 23.30 alle 19.45 al termine dei nostri telegiornali. Parliamo ora di amministrazione di Biella, la vigilia dell'inaugurazione degli Special Olympics scoppia la polemica sullo stadio Pozzola Marmora. L'opposizione di centro-sinistra attacca la giunta, i locali della struttura sono in uno stato di dragalado. La replica del sindaco Dino Gentile non sarà un po' di muffa ad oscurare un evento tanto importante come gli Special Olympics. Affermare che lo stadio Pozzola Marmora di Biella versi in condizioni buoni è un eufemismo. Come si può notare dalle fotografie, la struttura cittadina è caratterizzata da problematiche non troppo rassicuranti. Sull'argomento giunge un'interrogazione da parte del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà al comune di Biella. Roberto Pietro Bon, capogruppo di SEL, chiede al sindaco Dino Gentile come intenderà gestire l'edizione 2012 degli Special Olympics, visto lo stato di degrado in cui versano i locali dello stadio Pozzola Marmora. Se il comune di Biella e i suoi amministratori abbiano informato il comitato organizzatore dello stato faticente in cui versano alcuni locali dello stadio e di contro, come pensano di porvi rimedio entro il 18 giugno. E infine, se la costosissima pista di atletica di circa 400 mila euro abbia ottenuto l'omologazione necessaria, quale sia stato nel caso l'iter per ottenerle, se possibile, averne copie. La gestione del nostro storico simbolo sportivo sono la vera cartina di tornasore dell'identitudine e della pochezza di questa amministrazione, ricorda infine Antonio Filoni, esponente della segreteria provinciale di SEL. La replica del primo cittadino non si fa certo tendere. Non può essere un bagno con un po' di muffo oscurare un evento tanto importante come gli Special Olympics. L'opposizione sta solo gettando fango su una manifestazione di solidarietà e impegno e che vedrà protagonisti migliaia di giovani, ha chiosato il sindaco. E fondamentali per la prevenzione sono gli ambulatori che il fondo Edo Tempia di Biella ha dislocato sull'intera provincia. A parlarci in questa puntata della rubrica è Paolo Bagnasacco, responsabile sanitario. All'interno della nostra rubrica, in collaborazione con la Fondazione Edo e del Votempia, ospite oggi abbiamo il dottor Paolo Bagnasacco, responsabile sanitario della Fondazione. La Fondazione da sempre si occupa di quelle che sono le azioni di prevenzione e diagnosi precoce delle malattie oncologiche attraverso i suoi molti ambulatori. Ce ne vuole parlare nello specifico, dottore? Sì, ringrazio per la domanda perché è un fiore all'occhiello. La Fondazione Edo e del Votempia mette a disposizione specialisti a titolo gratuito per affrontare quelle che sono a volte solo delle paure, ma comunque la possibilità di avere delle consultazioni, delle visite specialistiche e sentirsi dire che non c'è nessun rischio o meglio, in quel dato momento non si riscontrano malattie tumorali o quelle che sono dei segni precoci che possono poi indirizzare un'evoluzione verso malattie tumorali è sicuramente fondamentale. Gli ambulatori che storicamente sono presenti, il primo a ricordarsi è quello della dermatologia, dove nel tempo ovviamente abbiamo provveduto sempre il fornilo di quelle che sono le metodiche all'avanguardia come la possibilità di fare una mappa nevica digitalizzata, ossia avere le immagini dei nei più brutti sospetti, se non sono proprio da subito, da togliersi, quantomeno da registrarli su un computer e con il confronto periodico annuale vedere come si sono modificati. La possibilità inoltre di usufruire di altre tecnologie ce l'abbiamo nell'ambulatorio ad esempio di ginecologia, dove abbiamo comperato un ecografo di alta fascia che consente una corretta visione e soprattutto anche in questo caso di una registrazione e di valutazione seriate nel tempo di quella che è la situazione registrata in quel determinato momento e come si evolve nell'anno successivo. Abbiamo la possibilità di usare anche questo ecografo ovviamente con sonda diversa a livello urologico dove abbiniamo da sempre quello che sono il controllo del PSA fatto tutti gli anni a partire dai 50 anni della visita urologica e dell'indagine ecografica fatta con elastosonometria che è l'ovoluzione che consente di superare quelli che sono i noti limiti delle diagnosi ecografiche prostatiche. Abbiamo ambulatori di quelle che sono le diagnosi precoci delle patologie di tipo polmonare, di otorinolaringoiatria, così fondamentale secondo noi perché ci sono tante lesioni pre-tumorali che possono essere evidenziate e quindi molte volte addirittura evitare l'insorgenza dei carcinomi. Abbiniamo sempre un'indagine clinica ma in questo caso direi che è un'indagine più di colloquio conoscitiva oltre che essere ovviamente un'indagine specialistica come la visita senologica. È difficile far diagnosi precoce palpatoriamente con un'indagine semplicemente manuale di tumori precoci al seno. Io ricordo che noi storicamente abbiamo fatto nascere lo screening attraverso mammografie, cioè indagini strumentali dei tumori della mammella. I tumori di alcuni millimetri non si sentono con le mani. Diamo quelle che sono tutta una serie di informazioni di stile di vita perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ricorda che il 30% di tutti i tumori è legato allo stile di vita e soprattutto all'alimentazione. In ultimo un ambulatorio che non è di diagnosi precoce è un ambulatorio nuovo, innomativo, è quello di agopuntura. Lo facciamo a oggi unicamente per le donne operate al seno che hanno dovuto affrontare cure o chemioterapiche o ormonali. Lo proponiamo a queste donne. È stata anche oggetto di una tesi di laurea di specialità in oncologia medica applaudita a livello universitario. E con la rubrica del Fondo d'Otempia si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, io vi do appuntamento alla prossima edizione alle 19.15. Buon pomeriggio a tutti!